salve a tutti e benvenuti a questo video commento di riepilogo del sesto turno dell'olimpiade di batumi olimpiade di scacchi 2018 siamo oltre la metà dell'evento e vediamo quindi cosa è successo nel torneo open abbiamo innanzitutto gli scontri di testa tra azerbaijan e repubblica cieca dove l'azerbaijan vince abbastanza in modo convincente si porta quindi diciamo più che altro rimane in testa idem per la polonia che sconfigge l'ucraina di ivanchuk con partita decisiva tra duda giovanissimo talento polacco e proprio grande maestro il vate ivanchuk vedremo un attimo un dettaglio perché si fa veloce analizzare questa quindi la vedremo dopo di preciso poi israel e germania patta una patta che non serve a nessuno delle due serve solo a frenarle entrambe gli stati uniti invece mantengono il passo solo con una patta in più del gruppo di testa vincendo contro la bosnia indegovina la cina vince ma resta indietro perché ha perso in precedenza e la russia continua a frenare insieme alla cina si frenano a vicenda in questo pareggio 2 a 2 ok diamo una rapida occhiata alla classifica dell'open quindi dopo il sesto turno azerbaijan e polonia ancora a punteggio preno e probabilmente si incontreranno al prossimo turno diciamo in caso di vittoria di una delle due potrebbe essere una buona ipoteca per il titolo segue a breve distanza degli stati uniti e poi una pletora di altre squadre che hanno una sconfitta o due patte sul gruppone veramente tante tante andiamo ora al torneo femminile abbiamo quindi un pareggio in testa degli stati uniti che vengono frenate dall'india e recuperate da altre squadre pareggio anche ucraina vince armenia con la russia questo è un altro duro colpo per i russi anche nel femminile non sta andando tanto bene e poi e la azerbaijan vince sulla lettonia bene vediamo anche la classifica del torneo femminile con gli stati uniti che vengono raggiunti quindi da georgia e armenia e poi tutta una serie di squadre che hanno un punto sotto e non so se notate chi c'è all'ottavo posto bene bene ma andiamo quindi un po vedere il dettaglio di alcune partite di questo turno ok iniziamo a vedere più in dettaglio partendo da questa partita dell'incontro polonia ucraina dove si affrontano due generazioni quella giovane di duda il polacco mini campioncino ma già over 2007 di rating e il mito vas di vanciuk dell'ucraina si inizia a vedere in questa posizione ok il bianco un pedone in più però io non sta messo malissimo sia questo cavallo abbastanza forte al centro difficile da anche rimuovere il problema principale questo pedone passato che potrebbe per il bianco divenire la testa d'ariete che sfonda tutto ok vanciuk prova a giocare f6 qui cercando di provare a sfondare il centro del bianco segue re d2 re f7 con l'idea di appoggiare un attacco eventualmente centrale difende il cavallo e ora torre cg1 attacca il cavallo è difeso da re sembra non ci siano problemi in realtà qui i vanciuk fa un piccolo errore una disattenzione che gli fa perdere un pezzo secco gioco a torre h8 ok vediamo un po se riuscita a capire dove sta il problema il problema è proprio frutto di quest'ultimo attacco del bianco sta attaccando il cavallo è difeso solo dal re la mossa giocata da duda è la spinta e 6 cerca di rimuovere il difensore ok se il re prende il pedone chiaramente si fa fuori il cavallo e vabbè non c'è modo di difendere un po' una posizione del genere viceversa se il re rimane in g7 a difendere anche inchiodato sul cavallo e quindi il cavallo può essere ulteriormente attaccato dopodiché questa spinta di pedone va attaccare il cavallo e il nero non ha modo per salvarlo e vabbè alla mossa successiva non potendo neanche dire ok si è sposto il re comunque prende il pedone con scacco questo cavallo va difeso in qualche modo e vabbè la partita in questo caso volge al teme di fatti ma si è proprio abbandonato direttamente bene veniamo agli incontri della nostra nazionale open si inizia con vocatura in prima scacchiera e nazionale affronta l'equador già affrontato dalla nazionale femminile vediamo un po come va a finire siamo qua in una fase finale della partita la quantesima mossa non appena giocato g4 vuole cercare di rompere questa catena di pedoni se vedete il bianco in qualche modo avvantaggiato a questo pedone passato che costringere nera a bloccarlo in impegna questo pezzo che non può andare a parare minacce sulla dire e quindi sfondando la struttura per donare magari riesce a penetrare la torre da sola non è detto che riesca a difendere ok qui viene il giocatore di otto si cerca di allontanare il re qual è l'idea ora è ovvio che qui il re può prendere n5 quello che succede in partita potrebbe darsi che ne do voglia entrare ad attaccare i pedoni dal dietro e il che è praticamente possibile però il bianco in questo caso comincia a catturare con g per f5 e il re bianco si trova in una posizione buona per scortare questo pedone verso la promozione di nero non ha tempo per far fuori tutte e due pedoni del bianco perché altrimenti poi si perde perché il bianco promuove quindi dopo re per 5 gioca f4 cerca di chiudere la struttura in un secondo tempo magari penserà a farsi sotto attaccare pedoni del bianco in realtà qua il bianco va avanti e procede con h4 è chiaro che ora è il bianco ancora che vuole destabilizzare la struttura del nero in caso di cattura è abbastanza ovvio re per f4 il bianco pareggia subito conti questi due pedoni da soli sulla colonna h non vanno da nessuna parte si può provare attaccare il per un f3 ma a questo punto il bianco ha come idea quella di portarsi il collatore sulla colonna h a lasciare questo pedone far fuori facilmente questi due per nero ad esempio una variante palpabile deve essere questa il nero cerca a difendere uno dei due pedoni h chiaro questo è in una posizione non difendibile fondamentalmente perché i prossimi giochi del bianco potrebbe essere quello di far fuori questo pedone perché il renner è troppo fuori dai giochi servirebbero a nero una quantità di mosse inverosimili per poterlo riportare in partita quindi dopo h4 torre 8 scacco ma il re va ancora più nella mischia con re f5 e ora g per h4 è quasi forzata perché ci sono due attacchi del bianco su questo punto se si dà ancora scacco magari il re bianco può riuscire addirittura arrivare alla base della catena dei pedoni ok come continuare torre a 2 l'idea è la solita di prima portare la torre sulla colonna h per far fuori questi due pedoni neri anche a costo del pedone a da parte del bianco per cui torre f8 scacco cerca di guadagnare tempi ma re 5 e ora h5 ancora una volta è possibile eventuale cambio di pedoni che alleggerirebbe il numero dei pedoni bianchi sull'area di re e alternativamente anche se il bianco cattura g per h5 settore h8 resta volta il nero avere un vantaggio perché può catturare un pedone in difeso in realtà però vocaturo vede la migliore che è semplicemente la spinta c5 mantiene questi due pedoni inutili sulla colonna h questo è bloccato non va da nessuna parte viceversa si minaccerà l'avanzata con il pedone g che anche più facilmente difendibile dal re bianco ovviamente per cui torre 8 scacco e re si avvicina al pedone e ora torre 1 con l'idea di magari difenderlo dal retro o attaccare l'altro pedone dal retro questa minaccia può essere ignorata il bianco prosegue con l'idea di far fuori questi due pedoni stavolta nessuno può fondamentalmente impedirglielo il nero ci prova con torre f1 minacciando il pedone f ma re per f4 difende il pedone ora effettivamente questi pedoni cadono e con essi fondamentalmente il nero perde la partita vediamo ora in seconda scacchiera dopo la vittoria in prima purtroppo nella seconda c'è una sconfitta e michele goden deve cedere il passo si analizza questa ventitresima mossa è stata appena fatta alfiere b5 il nero prova a sviluppare la donna con donna d6 tuttavia questa donna non sembra molto attiva perché non sta fondamentalmente attaccando sto pedone visto il difeso da una torre l'unico scopo potrebbe essere quello di doppiarsi con l'alfiere magari andare a minacciare roba pesante su g2 per esempio ok c'è un modo per interferire in tutto ciò e anche per sfruttare la debolezza di questo pedone il bianco può giocare alfere c6 questo minaccia di cambiare l'alfiere quindi il nero deve prendere provvedimenti però se cambia per primo segue cavallo c6 con doppio a torre pedone e ora che succede se ad esempio la torre prova a difendere il pedone segue la spinta d5 c'è tutta una serie di attacchi si minaccia di scoprire sulla donna se questo pedone prende rimane scoperto l'alfiere non è una posizione sostenibile viceversa se tipo la torre gioca in c8 allo stesso modo si può prendere subito il pedone quindi perdita di materiale questi due pedoni passati non sono certo sostenibili ok che altro fare in partita viene giocata alfiere c8 toglie l'alfiere dalla minaccia questo però ostacola ai moti della torre non può liberarsi questa torre e questo è un serio problema strategico che influirà anche dalla tattica di questa posizione si prosegue con alfiere f3 viene liberata la casa per questo cavallo buona l'idea va attaccare torre alfiere eventualmente pedone e non c'è molto da fare viene giocata alfiere g5 si prova a liberare l'alfiere per attaccare la torre ma questa torre va a rinforzare l'attacco su a5 e fondamentalmente questo pedone ora ad accadere viene giocata alfiere f6 si cerca di minacciare il cavallo ci se ne frega e vabbè qui il nero prova attivare la donna in qualche modo ma ormai il danno è fatto questi due pedoni risulteranno letari nel proseguire la partita si arriva a questo punto dove il bianco addirittura un matto in 9 tutti questi pedoni che corrono verso la promozione veniamo in terza scacchiera dove moroni con il bianco riesce a battere il suo avversario molto importante questa vittoria siamo una posizione del medio gioco abbastanza inoltrato mossa 21 il bianco qui sfrutta la potenza del proprio pedone attenzione a pedoni perché se cominciano a correre sono cavoli infatti qui è giunto in d6 minaccia di essere spinto in d7 che fare il nero prova a catturarlo sembra un guardario pedone perché comunque viene attaccata anche la donna il bianco cambia la donna per due torri e può dare questo scacco ok sembra che ci abbia rimesso di materiale qui luca ma la realtà è un po diversa attenzione ora il re va dietro l'alfiere per non esporsi troppo effettivamente viene effettuato questo cambio di pedone che eventualmente apre anche questa diagonale per eventuali giochi d'alfiere si riprende e ora la minaccia principale a cui c'è da stare attenti è questa alfiere per f5 non facile da vedere all'inizio della combinazione di fatto il bianco può giocare anche torre di sei andando attaccare la donna chiaro la donna non può prendere la luce di alfiere per f5 perché poi la donna è costretta di indetreggiare e si finisce in questa situazione in cui bianco a vittoria molto molto facile per cui la donna sta da spostare viene messa in f7 almeno controlla la la traversa settima dove le torri avrebbero un buon gioco d'attacco e qui alfere f1 che l'alfiere si ricicla ci sono possibilità di giocarlo ad esempio in c4 quando provo a giocare alfere f6 per cercare di districarsi da questa posizione un po troppo difensiva ma altra possibilità che aveva il bianco alfiere b5 con l'idea ora di crearsi un appoggio per la torre in d7 che inchioderebbe la donna sul re qua si prova a giocare alfiere 7 ma serve a poco per via di torre c7 il problema ora è che questa torre inchioda l'alfiere sulla donna che è inchiodata sul re posizione pessima anche se si sposta la donna poi questa alfiere cade perché poi tra l'altro si può aggiungere un'altra torre quindi che so ad esempio questa semplicemente si può andare a giocare questa mossa che attacca doppiamente l'alfiere l'alfiere deve cadere tra l'altro re molto esposto partita chiusa ecco perché su torre c7 alla fine dei conti il nero ha abbandonato giustamente e infine abbiamo una vittoria anche quella di valsecchi alessio con il nero in quarta scacchiera questa posizione emerge quasi subito all'undicesima mossa effettivamente qui il nero non è che sembri durare troppa fatica con questa posizione perché sembra che il re bianco stia per arroccare corto in una posizione non proprio vantaggiosa di fatti viene giocata b6 per aprire la via questa alfiere magari c'è idea di giocarlo a modo da bloccare l'arrocco il bianco si affretta arroccare qui ma si trova con il re su case scure in una situazione non facile perché arriva subito anche se l'unico pezzo sviluppato a parte il cavallo questa alfiere d4 e qui ci sono due opzioni o si spinge la torre in f2 il che potrebbe permettere subito un guadagno di qualità se non altro anche se in partita alessio spinge ancora in f4 per cercare di rompere la difesa del re bianco probabilmente anche una mossa migliore rispetto al semplice guadagno di qualità perché se viceversa il bianco avesse spostato il re in h1 la dominazione di questa alfiere questa diagonale scura è veramente insostenibile qui c'è il sacrificio in g3 il bianco può riprendere poi la entra e non ci sono scappatoie diciamo non c'è verso di evitare che la donna possa in qualche modo entrare sulla colonna a quel punto la partita del bianco è finita perché non può difendere da entrambe le minacce di alfiere donna senza perdere una quantità materiale non indifferente ok quindi buon risultato nonostante la sconfitta di godena 3 a 1 per i nostri che proseguono spediti verso questa seconda metà delle olimpiadi ma veniamo alla grande prova delle ragazze contro la nazionale cubana fortissima abbiamo in prima scacchiera olga zimina che gioca con il bianco in questa posizione raggiunta la 32esima mossa qui nero decide di giocarsi re h8 che si ok sembra togliersi da questa inchiodatura però se ne infilano un'altra il che concede un inizio di attacco da parte del bianco donna h5 chiaro che si sta minacciando di catturare questo pedone che non farebbe molto piacere probabilmente la migliore quella semplicemente riportare indietro e questo neutralizzerebbe l'ultimo movimento della donna anche se il bianco può accumulare altri attacchi per un po difficile capire come possa riuscire a sfruttare eventuali debolezze del nero almeno così a breve termine viceversa meglio calca valle f6 che sembra più attiva attaccando la donna ora non sembra buona prima vista perché dopo il cambio con l'alfiere qui nero si rompe un po la struttura pedonale però come fare a sfruttarla senza l'alfiere campo oscuro questo alfiere campo chiaro non può battere da nessuna parte se si prova a portare una torre in gioco magari per attaccare questo pedone basta la donna andare a difendere un po tutto qui non sembra molto minacciosa come variante possibile questa per cui la donna viene riportata su f3 ora magari catturare il cavallo e poi ricatturare le donne potrebbe essere una buona idea qui si gioca alfele 7 per cercare di difendere però si sottovaluta un attimino un indibolimento di queste case che non sono più difese dall'alfiere neanche indirettamente per cui g4 si può cominciare a sparare pedoni in faccia all'avversario re g8 anche qui un po un po lenta questa manovra portare re verso il centro non sembra proprio utilissima spinta g5 il pedone arriva a contrastare il cavallo quel cambio abbastanza l'obbligo e si giunge in questa posizione dove il cavallo ha da sloggiare e prova ad andare in h7 anche perché diciamo almeno qui minaccia di catturare questo pedone il problema è che c'è donna h5 si va a far pressione su h7 ora sembra che questo pedone sia catturabile però il bianco ha pronti gli altri suoi pezzi per giungere velocemente all'attacco per cui ad esempio se cavallo per g5 c'è f4 il cavallo deve subito fare dietro front e poi dopo re f2 la cosa è abbastanza facile perché il bianco la può entrare collatore sulla colonna h sono veramente dolori in alternativa come giocato un partita viceversa viene giocata al fiere per g5 però anche qui torno g4 direttamente si va a minacciare la doppia cattura sull'alfiere che farebbe guadagnare un po di materiale al bianco per cui si prova a difendere con f6 questo contrattacca anche l'alfiere campo chiaro ma nessuna paura perché comunque si può spingere in f4 andando a contraattaccare l'alfiere nero ora se f per e5 segue f per g5 questo pedone poi potrà essere ancora più doloroso una volta spinto in g6 in partita è stata giocata donne 8 tentativo di liquidare l'attacco del bianco cambiando le donne cosa negata da donna h2 ora il nero però in qualche modo è costretto a rompere gli indugli perché non può mantenere gli alfieri in questa posizione notate che la posizionamento della torre fa sì anche che il pedone g del nero sia inchiodato quindi mosse come alfera h6 avrebbero fatto semplicemente perdere un tempo con guadagnare l'attacco per il bianco per cui comunque ho detto f per e5 f per g5 recupera il pezzo è pronto a spingere sul g6 chiaro la posizione d'attacco del bianco ottimale si prosegue contro le d4 cercando il cambio delle torri negato da questa ottima alfera e4 che difende e contraattacca sul cavallo in h7 qui il nero costretto a cedere fondamentalmente la qualità dopodiché vabbè l'attacco del bianco ottimale vantaggio materiale partita praticamente già vinta in seconda scacchiera abbiamo invece è una sedina con il nero anche qui vittoria molto importante siamo praticamente ancora in apertura ma quattordicesima mossa del bianco al fere di 3 c'è una piccola minaccia di cambiarlo sul cavallo moda creare qualche squilibrio di pedoni nero risponde attaccando al centro con f6 si minaccia la cattura su e5 questo aprirebbe anche l'attacco della tornera ottimo per varie possibilità tattiche che scaturirebbero ora qui le cose sono due o si può cambiare effettivamente potrebbe essere la mossa migliore anche se questo sembra un po una perdita di tempo perché si concede al nero di aprire la colonna proprio come voleva però eventualmente si può contrattaccare subito la torre se prende di torre quindi dovrà perdere il nero tempi per liberare la dovendo riprendere dal fiere oppure si fa come in partita contrattaccando forse natamente con g4 sembra buona perché si fa attaccare questo cavallo e non si sa bene dove possa andare è chiaro se arretra poi il nero fa fuori la struttura pedona il bianco fa fuori la struttura pedonale del nero è chiaro che però dal punto di vista tattico non si è fatto proprio tutti i conti in modo giusto perché qui è una gioca f per e5 e difatti anche se il bianco può prendere il cavallo poi c'è la minaccia di doppio non conviene molto g per f5 perché alla fine di questa variante dopo che il bianco ha reso il materiale deve rendere anche gli interessi tra l'altro il nero ha un buon attacco pure quindi niente g per f5 viene giocata viceversa d per e5 toglie la possibilità del doppio a nero ora effettivamente però il cavallo è sotto e qual è lo scopo di questo cavallo quello di cercare di neutralizzare le difese del re bianco ad esempio il cavallo f3 ora è attaccato doppiamente difeso dalla donna che fare ora se il cavallo si cambia entra in gioco anche l'alfere campo oscuro su f2 comincia a essere veramente pesante la situazione venne però fatto un'altra mossa non proprio ottimale cavallo d4 si difende il cavallo con un altro cavallo ora c'è da stare attenti che questo cavallo non venga rimosso difatti come prima mossa il nero qui prende il cavallo rimuove il difensore è chiaro questo cavallo va ripreso per forza e il problema qui è che c'è il fere c5 ok il cavallo non può tornare indietro perché non è più difeso quindi il cavallo rientra in c2 magari sperando di riuscire a coprire la difesa con cavallo e3 poi o cavallo e1 però non fa in tempo ora c'è subito cavallo f3 quindi tolto il pezzo difensivo di mezzo c'è questo scacco il re si sposta e ora donna h4 praticamente il nero ha fatto entrare tutti i pezzi in attacco e qui c'è doppia minaccia sia su h2 che su f2 quindi l'attore non è che si possa così semplicemente muovere per difendere il pedone h ok qui addirittura la mossa migliore dei motori è donna per cavallo quindi tutto un dire in partita è stata giocata semplicemente h3 però qui intanto si fa fuori questo pedone si minaccia l'alfiere situazione tattica praticamente compromessa per il bianco che ben presto nel giro di 6 o 7 mosse si arrende in questa posizione finale veniamo in terza scacchiera con desiderio de benedetto con il bianco una posizione dalla trentatresima mossa praticamente un finale con i re è piuttosto esposto e c'è da stare molto attenti alla tattica qui è un giocatore f1 buona l'idea quella di poter attaccare con donna f7 magari può dare matto anche eccetera non è ben chiaro come il nero possa difendersi tranne per il piccolo particolare che c'è questo scacco donne 4 ok se qui il bianco si sposta con il re semplicemente c'è donna g2 matto quindi deve frappore qualcosa forse la migliore poteva essere donna f3 però comunque torre f8 è buona sembra che prenda matto il nero ma purtroppo la donna è inchiodata sul re quindi l'unica è sacrificare il cavallo g per f5 g per f5 ora sembra si ripetano le cose ma la torre può tolersi di mezzo difatti la donna era inchiodata anche dal matto a un fondo con torre per f1 ok ora il bianco in realtà potrà cambiare le donne però ha perso il vantaggio materiale anzi è in svantaggio materiale avendo dovuto sacrificare il cavallo in partita viene giocata quella che all'apparenza è meno fastidiosa cavallo f3 blocca l'attacco della donna il problema è che si può ripetere lo stesso attacco di prima con torre f8 ora non c'è neanche la torre bianca che può direttamente attaccare la torre nera quindi semplicemente si deve spostare la donna non ci sono scacchi a disposizione viene giocata in d6 però torre per f3 e ora subito si minaccia una scoperta infatti anche tentare di dare scacco con torre di otto non serve a nulla perché anche se la torre sembra impresa in realtà è un si parla lo scacco dando scacco e quindi il bianco è forzato a manovrare e a perdere la partita tra l'altro in due ecco quindi perché effettivamente dopo torre per f3 il bianco è abbandonato vediamo fine in quarta scacchiera con marina brunello e il nero altra vittoria quindi 3 a 1 per le nostre si schizza su in classifica vediamo che qui siamo la 22esima mossa vengono raddoppiate le torre sulla colonna e c'è il problema che questo cavallo potrebbe essere sovraccarico dovendo difendersi alla torre che l'alfiere per cui il bianco prova a difendere di donna dopodiché cavallo f8 semplicemente il nero ora qui ha una situazione piuttosto buona perché nessun pezzo bianco può andare facilmente all'attacco anche questo cavallo è abbastanza bloccato ci bisogno di forti manovre per cui alfiere di 3 l'altro alfiere campo chiaro invece può spaziare avrà a disposizione questa buonissima casa in g4 qua si prova a cambiare le torri per leggere un po la situazione ma comunque cavallo e 2 che cerca di ricircolare il cavallo anche se non è ben chiaro come c'è il freddo g4 un po pressione sui pezzi il cavallo si sposta portandosi all'attacco però un po isolato al momento ed ecco che il nero può cambiare alfiere per e2 alfiere per e2 il problema è che non c'è più difese su questo pedone c'è solo la donna che però è sovraccarica se vedete questo c'è da questo momento basta togliere questo difensore di mezzo e il pedone d4 sembra indifeso è vero è difeso dalla donna ma comunque sovraccarica quindi è piuttosto semplice calcolare che alfiere per d4 non è un sacrificio dovendo quindi la donna difendere anche l'alfiere quindi si perde un pedone dopodiché la posizione comincia a sbriciolare perché già subito questo è sotto l'attacco qua il bianco prova a rendere il fagore con questo desperato va a far fuori un pedone però il nero ne fa fuori un altro quindi rimane comunque vantaggio materiale ok quindi con questo ottimo risultato si va nelle posizioni top di classifica affrontare l'azerbaijan già affrontato nella nazionale open speriamo che con le ragazze vada un po meglio ok quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo a presto e ciao ciao